Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del Complexity Literacy Web Meeting. Per chi non lo sapesse, quest'anno è il decimo anno che svolgiamo il Complexity Literacy Meeting. In realtà lo abbiamo fatto sempre in presenza, poi dal periodo del Covid abbiamo incominciato ad aggiungere un'edizione autunnale Web Meeting che quest'anno arriva alla sua quarta edizione, quindi la cosa sta diventando importante e continua. E quindi anche quest'anno abbiamo la possibilità di ascoltare e anzi di vedere in questo caso, quindi non solo ascoltare ma anche di vedere, la presentazione di alcuni libri direttamente da parte degli autori che saranno nostri ospiti e noi di questo siamo onorati e grati. Si parte stasera con un evento per noi eccezionale, per tutti noi, per la nostra comunità, perché abbiamo, almeno noi riteniamo un maestro con noi, Mauro Cerutti, insieme al coautore e al professor Francesco Bellucci, ma poi di loro vi racconterò dopo, che sono qui per presentare un libro dal titolo Umanizzare la modernità, un modo nuovo di pensare il futuro, edito dalla Raffaella, da Raffaele Cortina. Allora, prima di incominciare, per chi è la prima volta che segue questa manifestazione del Complexity Institute, qualche breve parola sulla nostra associazione, che è nata oramai da tredici anni, credo sì, sia il tredicesimo anno, e nasce con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e le pratiche della complessità. E questo lo fa facendo eventi, sia dedicati solamente ai soci, che aperti al pubblico, come quello di questa sera. E lo facciamo promuovendo la cultura della complessità non solo alle persone singole, ma anche alle organizzazioni sociali, in particolare poi alle organizzazioni d'azienda, specificatamente. La nostra attività può essere sostenuta iscrivendosi alla nostra associazione, partiremo con la nuova campagna associativa, pensiamo già da dicembre, e la quota associativa per tutto l'anno, per cui chi si associerà poi avrà la quota associativa per tutto il 24, sarà di 50 euro annui. Però noi non non rifiutiamo anche contributi, liberi contribuzioni, donazioni, per aiutare e sostenere la nostra attività, non si sa mai mai la nostra attività. Per chi vuole comunque informazioni può andare sul nostro sito complexityinstitute.it all'area dedicata ai soci. Ma detto questo veniamo subito alla serata e prima di introdurre degli ospiti, direi che fa bene un riepilogo per chi non l'ha mai vissuto serata del genere, sullo schema e i tempi del nostro format che oramai è collaudato, sono svariati anni che abbiamo questo format. In questa edizione, il titolo lo avete visto, raccontiamo la modernità e apriremo la serata con la rubrica condotta dal professor Giuseppe Zollo, già ordinario presso la facoltà Federico II dell'Università di Napoli. La rubrica ha il titolo Le immagini della modernità, lo sguardo di Italo Calvino nell'osservare il mondo. Questa rubrica durerà circa cinque minuti, dopo daremo subito la parola al professor Ceruti, che è uno dei due autori del libro di cui vi ho detto in precedenza e avrà quindici minuti per il proprio intervento di presentazione del libro. Successivamente toccherà a Francesco Bellucci, il coautore, anche lui avrà quindici minuti per la propria presentazione del libro. Dopodiché vi chiederemo di farvi una domanda reciproca che speriamo non abbiate preparato, anzi sia un po' provocatoria, possibilmente, per rendere un po' la serata un po' vivace e dopo questa domanda incrociata passeremo, sarà il mio il compito, di girare ai due autori le domande che i partecipanti avranno fatto in chat. Vi faccio una preghiera, domande possibilmente brevi e dove sia chiaramente indicato a quale dei due autori rivolgerla. La chat potete usarla comunque anche per esporre i vostri pensieri, vostri commenti o anche per suggerire letture o documenti di approfondimento sui temi che magari emergeranno durante la serata. Fatto questo quarto d'ora venti minuti di botta e risposta, botta e risposta avremo poi una rubrica finale, la seconda rubrica che è condotta da Enrico Cerni, che molti di voi conoscono, manager, formatore e scrittore, dal titolo Le parole della modernità tra rimbalzi ed ecchi nascosti. E poi alla fine ci saluteremo, però state fino alla fine perché poi dopo vi dirò chi saranno i prossimi ospiti del giovedì successivo. Va bene Mari, io a questo punto, dopo aver fatto questa introduzione, posso presentare i due ospiti prima di incominciare. I nostri autori sono, abbiamo detto, Mauro Ceruti. Io, ragazzi, perdonatemi tutti e due, sarò molto sintetico perché sennò dovrei veramente cioè leggermi un libro per poter raccontare di voi. Quindi Mauro Ceruti, professore ordinario e prorettore vicario presso l'Università Yulme di Milano, già senatore della Repubblica nella sedicesima legislatura, autore di numerosi libri tradotti tra le altre di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo, ma poi ce ne sono altre di traduzione. Poi abbiamo Francesco Bellusci, professore di filosofia e storia presso il liceo classico di Senise a Potenza, già docente a contratto di didattica della filosofia all'Università degli Studi della Basilicata, ed è autore con Mauro Ceruti già di altri due saggi, se non erro. Spero di essere stato preciso. Allora, io ringrazio di cuore di essere con noi, dalla vostra disponibilità e direi Marinella, facciamo partire la prima delle due rubriche introducendo il professor Giuseppe Zollo. Vai! A te la parola Peppe, prego. Condivido lo schermo, condivido il PowerPoint e metto in modalità presentazione. Se accade qualcosa. Non accade niente. Ecco qua. Fatto Peppe apposta. Sì sì, benissimo, grazie. Perfetto. In questa e nei prossimi interventi intendo osservare la modernità attraverso lo sguardo di Italo Calvino sulla scienza. Calvino è nato cent'anni fa e quindi non potevo esimermi da questa ricorrenza. Nelle lezioni americane Calvino afferma che la letteratura è un'antenna che raccoglie segnali portatori di nuove complessità del mondo e dice che la letteratura li trasmette per renderci più consapevoli non solo di ciò che accade, ma anche di ciò che potrebbe accadere. Questo fatto a me sembra fondamentale. Per Calvino la scienza è un serbeto di immagini che potrebbe espandere la nostra consapevolezza sul mondo, ma purtroppo però c'è un ma. La scienza non osserva la realtà come noi facciamo nella nostra quotidianità. Gli scienziati isolano il fenomeno in laboratorio, lo trasformano in un insieme di dati, poi i dati vengono sintetizzati in delle equazioni molto spesso. Alla fine quest'albero diventa rinsecchito, l'albero del fenomeno diventa rinsecchito ed è incapace di nutrire il nostro immaginario. Calvino pensa che per abbattere questo muro che separa la scienza dalla vita, la conoscenza scientifica deve assumere una forma narrativa e, andandene incontro, la letteratura deve diventare filosofia naturale. Cosa significa fare filosofia naturale? Se un romanzo ruota attorno a un personaggio umano, lo scrittore sa usare le parole per sintonizzare la personalità di quel personaggio, le passioni e l'emozione del lettore, come è successo spesso nel linguaggio utilizzato in le trame della, anche della fantascienza. E come noi sappiamo dalla grande letteratura, per noi personaggi come Natascia Rostova di Tostoio, Madame Bovary di Flauberto, Jean Sorel di Stendal, sono più vivi del nostro compagno di banco o del nostro collega. Ma come fare quando il protagonista è un astruso concetto scientifico? Questa è la domanda di Calvino. Come dare anima a Quark, all'elettrone, a Quasar, alla teoria della relatività? Calvino sa che deve possedere la scienza con il proprio corpo, deve ingoiare gli scritti della scienza e rigurgitarli come letteratura. Deve fare una sorta di illuminazione digestiva del concetto scientifico finché quel concetto diventa sensazione ed emozione corpone. Per far questo presta il proprio corpo a un personaggio che è all'età dell'universo inventa un soggetto, un personaggio che chiama QFWFQ, narratore onnisciente e metamorfico che racconta gli eventi cosmici come se fossero avvenimenti personali. QFWFQ è, a seconda della situazione, un'entità astronomica, una particella elementare, una molecola, una creatura primordiale, un dinosaurio e arriva perfino a diventare una persona comune. Questa è l'intenzione. Per attuarla, Calvino ha due nomi tutelari, Ariosto e Lucrezio. Quando nel romanzo, quando ne racconto sul far del giorno, nelle cosmi comiche, deve descrivere la formazione del sistema solare da una nebula praticamente affida la narrazione ovviamente a QFWFQ che con giocosità, con la leggerezza di Ludovico Ariosto racconta di come il sole, ancora una giovane stella, fosse inizialmente dubbioso e insicuro rispetto al proprio ruolo nel sistema nascente. Oppure i pianeti che vivono sentimenti di competizione e gelosia come fratelli che si contendono all'attenzione dei genitori. Voglio citarvi due o tre passaggi per mostrarvi come la famiglia di QFWQ vive l'evento cosmico della materia che si condensa. Per esempio il padre, sul padre dice, fu mio padre da accorgersi che qualcosa stava cambiando, io ero appisolato e il suo grido mi svegliò, attenzione qui si tocca. E poi parlando del fratello, cosa con cui giocare non c'erano mai state. E come volevo che giocassimo? Con quella pappa di materia grossa. E poi la cosa bellissima sulla nonna. La nonna di, che si chiama BB apostrofo B, credeva che la, testualmente, che la materia fosse un'espansione uniforme e, per esempio, l'immondizia bastasse buttarla lì, come capita, per vederla rarefarsi e vederla scomparire via via lontano. Questo è il tono giocoso. Però a Calvino c'è anche un tono epico, ricco di meraviglie e di misteri come Lucrezio. Per esempio, guardate questo passo che, ascoltate questo passo che vi leggo in cui l'universo viene illuminato per la prima volta. Stavamo scrutando questo buio attraversato da voci. Quando avvenne il cambiamento. Una specie di ebollizione certamente lontana e che nello stesso tempo avvicinava ciò che era vicino. Insomma, ad un tratto, tutto il buio fu buio, in contrasto con qualcos'altro che non era buio, cioè la luce. Risultano in queste parole di Calvino lo stesso respiro cosmico dei Lucrezio del re d'umanatura. E a me mi ha ricordato un versetto che così voglio ricordare anche a voi. Que bene cognita sita eneas, natura videtur libera. Cioè, se tu comprendi bene queste cose, cioè anche queste immagini della scienza, la natura lo vedrai libera. E solo con questa comprensione, con questa sorta di nuova epistemologia letteraria che Calvino ha inventato, ci permette di espandere veramente il nostro io e farci appartenere all'universo. Quindi, grazie Calvino. Grazie, professor Zollo. Grazie Peppe, grazie di tutto. Ok, puoi togliere la condivisione? Sì, se ci riesco, fine presentazione. Ci riuscirai, ci riuscirai. Ecco qua. Interrumpi condivisione. Ok, grazie Peppe, grazie ancora. Ok Mauro, a te la parola. Prego. Grazie. Innanzitutto, la prima parola è grazie per trovarci ancora qui insieme in questa serata. Grazie Marinella, grazie Dario. E un saluto a tutti gli amici che sono presenti per condividere questo insieme, questo momento di riflessione in un tempo molto molto difficile, molto preoccupante, molto buio, molto buio per ciò che accade, che sta accadendo anche in questi minuti, e molto buio anche perché l'esercizio del pensiero, insomma, è molto rallentato, tanto più ci sarebbe bisogno di riflessività, di pensiero in questo momento e tanto più invece emergono stereotipi, automatismi, manicheismi che obnubilano il pensiero. E oggi più che mai invece abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di pensiero, di un nuovo pensiero. E voglio legarmi a ciò che ha appena detto Beppe Zollo in modo così mirabile come fa sempre lui, in modo poetico racconta la scienza. e voglio agganciarmi a ciò che hai detto Beppe, riferendoti a Calvino, alla sua idea della letteratura che racconta non solo ciò che accade, che ha come compito oggi più che mai di raccontare non ciò che accade, ma anche ciò che potrebbe accadere. E questo è il potente realismo della della letteratura, quello di portarci, guidarci a scoprire il possibile che c'è sempre nascosto, il possibile inedito dietro le cose. E quindi la possibilità di sperare soprattutto l'insperato, l'insperabile, nei momenti oscuri e difficili come il nostro, nei quali un comportamento che avvolge globalmente le menti rischia di essere quello del sonnambulismo, quello stesso tipo di sonnambulismo che ha portato ai grandi conflitti europei e mondiali del Novecento. viviamo una situazione molto, molto, molto scivolosa. Ricordo, e me lo fate ricordare voi, poi con, invece con il vostro sorriso, Dario e Marinella, Marinella e Dario, nell'organizzare sempre in modo lieve questi incontri, per essere incontri reciprocamente accoglienti. Ricordo tanti anni fa, ormai quasi 40 anni fa, Dario, in uno dei seminari che ci regalava il professore Ilia Prigogine, a noi giovanissimi ricercatori, eravamo un piccolo gruppo che ci trovavamo all'Università Libera di Bruxelles, a riflettere sulla necessità di un nuovo pensiero, un pensiero che cominciavamo a definire come pensiero complesso e che aveva bisogno però di mettere in relazione tanti pensieri. Un pensiero che si stava delineando una quarantina di anni fa come pensiero complesso, però in modi differenti e separati in tante discipline. La chimica, per la quale Ilia Prigogine ebbe alla fine degli anni settanta il premio Nobel per le strutture dissipative che lui studiava nella fisica, nella matematica, nella biologia, nelle teorie delle evoluzioni, soprattutto nelle scienze della natura. Questi seminari erano seminari invece che erano nati dalla consapevolezza che bisognava in modo transdisciplinare, non solo interdisciplinare, incrociare tanti sguardi che erano gli sguardi delle discipline diverse ma anche delle persone, personalità diverse, giovani soprattutto, che si riunivano sotto e attraverso l'autorità di Prigogine. E ricordo che è una domanda che allora ti feci per il modo in cui dovevamo organizzare quel seminario in modo autorevole e sorridente nello stesso tempo, come fate voi con i nostri incontri, il professor Prigogine, che incuteva anche un certo timore, mi disse, vedi Mauro, per pensare in modo nuovo, in modo complesso, dobbiamo imparare a lavorare insieme in modo nuovo. E questo fu un insegnamento molto importante perché anche in questo tempio della scienza pura, che era questo laboratorio di Prigogine a Bruxelles, il premio Nobel metteva in evidenza come la dimensione esistenziale fosse consustanziale anche all'elaborazione di un pensiero così difficile come il pensiero complesso. Da quel momento io ho cominciato, sapete, come alcuni di voi sanno, cercare di elaborare un'epistemologia costruttivistica, sistemica, complessa. E mi sono sempre più reso conto, anche attraverso incontri come questo, che l'epistemologia della complessità non è una teoria della conoscenza più vera, dal mio, dal nostro punto di vista, rispetto ad altre teorie della conoscenza, ma si colloca su un altro piano, anche quando ha a che fare con le dimensioni scientificamente più teoretiche e astratte come quelle che evocava prima Beppe Zollo, anche attraverso Calvino. L'epistemologia della complessità è non una teoria che pretende di dire o di definire dei principi assoluti, astratti, per individuare o differenziare la conoscenza vera dalla conoscenza falsa, ma è sempre anche una pragmatica che mette in gioco una dimensione vitale, esistenziale, nella consapevolezza che la conoscenza trasforma, non solo trasforma l'oggetto che sta conoscendo, come già ci insegnavano i grandi teorici della fisica quantistica esattamente un secolo fa, ma la conoscenza è, come dire, produzione, costruzione, attraverso l'incontro di tanti punti di vista di un mondo all'interno del quale si collocano gli attori, i costruttori di questa conoscenza. Siamo interni alla natura che conosciamo, siamo interni produttori, partecipi della società, del mondo che produciamo. Non pensavo di partire da questo preambolo, ma me l'avete ispirato attraverso la vostra conoscenza, perché con Francesco abbiamo voluto scrivere questo libro, che è il terzo di una trilogia che però già promette di essere una quadrilogia, è in corso una stesura di un quarto testo. Perché abbiamo cercato? Innanzitutto in questo testo noi abbiamo cercato di elaborare una grammatica per pensare la crisi della modernità e l'abbiamo fatto attraverso una visione binoculare. Da una parte un'epistemologia, che è l'epistemologia complessa che noi condividiamo, e dall'altra parte, come potremmo dire, una fenomenologia. Siamo partiti dall'osservazione del mondo, dal sentimento del mondo che viviamo in questo momento, che è un mondo ambivalente, è un mondo che da una parte promette, per esempio attraverso il posto umano, fa promesse di eternità, fa promesse di lunga vita, fa promesse mirabilanti di nuovi sbocchi per l'esistenza umana, e dall'altra parte, invece, è un mondo nel quale dilaga la paura, dilaga l'angoscia, dilagano le crisi. E innanzitutto siamo partiti dal prendere sul serio l'angoscia che pervade le nostre vite nel nostro tempo. E siamo partiti dall'idea che l'angoscia che pervade le nostre vite nel nostro tempo, e osserviamo soprattutto che siamo insegnanti, vivendo con i ragazzi del nostro tempo, che sono nello stesso tempo fragili e forti, è legata alla perdita di futuro. Ecco, se c'è una definizione che può caratterizzare da qualche decennio, fra le altre, il nostro tempo, è la perdita del futuro. La nostra civiltà ha vissuto, direi, fino agli anni settanta del secolo scorso, nell'idea di avere un futuro, un futuro di progresso, e il progresso era sentito prima ancora che pensato come certo. Chi, diciamo, è giovane da un po' più di tempo, come me, insomma, si ricorda che nel mezzo di cammin di nostra vita c'è stata una cesura nel rapporto con il futuro. La mia generazione è partita anche attraverso l'impeto, lo slancio della generazione dei nostri padri, delle nostre madri, del nostro guerra, del dopoguerra, con una grande speranza, con una grande energia. Insomma, si pensava che il futuro davvero sarebbe stato senz'altro rapidamente migliore che non il tempo, peraltro, catastrofico passato, ma anche un futuro migliore dal punto di vista del benessere. Insomma, si realizzava davvero il sogno moderno che vedeva da tempo, salvo poi gli inavvissamenti delle due guerre mondiali, eccetera, eccetera, vedeva andare a braccetto, mano nella mano, il progresso della scienza, della tecnologia, della società, della democrazia, del benessere. Lo schema era ogni progresso della scienza garantirà un progresso della tecnologia, un progresso della tecnologia garantirà un progresso sociale, nelle condizioni umane, nelle condizioni di salute, e così, e così, e così. Ma a un certo punto, appunto nel mezzo di cammin delle nostre vite, della mia generazione, in modo irreversibile, in modo irreversibile, ci si resi conto che, insomma, le scienze, le tecniche, l'industrializzazione, in una parola potremmo dire la modernizzazione, producevano da una parte progressi, però anche al contempo effetti perversi, inquinamento, è dei primi anni 70 la nascita del pensiero ecologico, è dei primi anni 70 il primo rapporto del Club di Roma, quello sui limiti dello sviluppo e della crescita zero, che al di là dell'ingenuità che può manifestare ai nostri occhi più complessi, oggi però è stato davvero un grande momento di presa di consapevolezza, pensiero ecologico e pensiero globale sono nati insieme in quegli anni, le crisi economiche ricorrenti, e questo ha incritato le certezze. E nello stesso tempo però si era già perso il passato, i fondamenti di certezza che animavano le nostre tradizioni, e questo proprio a causa del processo progressivo, del progresso apportato dalla modernizzazione, pensiamo alla civiltà contadina, al mondo rurale, al mondo anche pre-industriale o proto-industriale con i suoi valori. Infine tutto questo si è situato in una crisi planetaria, in una crisi che è stata percepita come globale. Il pianeta oggi, attraverso questi anni, si manifesta a noi, si presenta a noi nella nostra esperienza quotidiana, e ormai quotidiana nell'esperienza di miliardi di esseri umani sul pianeta. Il pianeta è oggi in uno stato e si presenta in uno stato di caos, con il cambiamento climatico percepibile, con le pandemie, con una guerra antica che è tornata a lacerare il tessuto globale di un'umanità che è di fatto ormai un'umanità globale, ma stenta a riconoscersi, a emergere attraverso le forme della cultura, le forme delle istituzioni, eccetera, eccetera, come una umanità. Insomma, viviamo una crisi complessa che è fatta di tante crisi. Ogni crisi alimenta le altre crisi. La crisi sanitaria della pandemia, certo, è stata una crisi che riguarda la salute, che è entrata a indurre paura, pericolo nella vita quotidiana di migliaia di esseri umani, e però è stata nel contempo una crisi economica, una crisi sociale, una crisi psicologica, una crisi spirituale. Insomma, tutte queste crisi si sono alimentate reciprocamente e hanno generato rapidissimamente una trasformazione dell'esperienza del nostro mondo globale. Che cosa accade? Accade che si sono consolidate due posizioni, due atteggiamenti, che vengono rinforzati continuamente anche da questa tribù mediatica che in modo ossessivo trasmette o comunque opacizza le nostre visioni attraverso manicheismi, appunto, stereotipi. Da una parte un irrigidirsi, un banalizzarsi del postmodernismo, e cioè non solo la fine della fiducia nel momento ascensionale della storia verso mete migliori dell'umanità, ma anche la convinzione che non ci sia più storia, che non ci sia più divenire, ma solo, insomma, un eterno ripetersi del già pensato, del già vissuto, e questo nelle rappresentazioni globali come anche nelle rappresentazioni sociali e personali. Dall'altra parte, all'apparentemente opposto, risposte regressive come i fondamentalismi religiosi, i nazionalpopulismi, i neoimperialismi. E una delle conseguenze della crisi dell'idea di progresso è che il futuro è diventato un problema, è diventato avvolto dalla nebbia. Il futuro ormai si chiama certezza, laddove solo pochi decenni fa il futuro si chiamava certezza, per esempio anche nelle grandi visioni politiche, tutte quelle liberali, quelle socialiste, quelle comuniste, quelle nella guerra fredda di entrambe le parti. Ma c'è un'altra conseguenza, è che il presente è diventato un absolutus, sciolto, sciolto dal passato, che è appiettito e rimosso dal presente, sciolto, assoluto, da ogni visione del futuro. e viviamo in una tirannia del presente che fa prevalere il pensiero e l'azione a breve termine rispetto al lungo termine. E insomma la rapidità delle innovazioni tecnologiche rende difficile non solo la possibilità di immaginare un futuro, ma rende anche impossibile immaginare un possibile diverso rispetto a quello calcolabile algoritmicamente a partire dal presente. Ecco, questa è la premessa motivante del nostro libro e attraverso questo nostro piccolo libro abbiamo cercato di definire, di delineare, come potremmo dire, alcuni modi di ripensare il futuro, alcuni modi di ripensare il progresso, riprendendo anche la classica domanda di Immanuel Kant che nel suo tempo si formulò così, c'è un progresso verso il meglio, e il titolo poi, se non ricordo male, è Francesco anche nell'ultimo paragrafo del nostro libro. Ecco, quindi potrei definire, Francesco, se sei d'accordo, questo nostro piccolo libro, un libro sul senso del possibile, per questo mi ha colpito il riferimento all'idea della letteratura che Peppe Zolo ha fatto all'inizio, la letteratura come racconto realistico, questa è la definizione anche di Milan Kundera, non solo, per esempio, di un altro grande romanziere del nostro tempo, che racconta non solo ciò che accade, ma ciò che può, potrebbe, potrebbe accadere. E tutto questo, chiudo in una battuta, quindi non dico nulla di ciò che abbiamo scritto effettivamente nel nostro libro, se non la scena che ci ha motivato a scriverlo, il tutto all'interno della cornice necessaria di una prospettiva, di un pensiero, di un'antropologia complessa, imperniata sull'idea che è la caratteristica fondamentale e che ci consente anche di delineare un orizzonte di speranza, è quella, la caratteristica che oggi possiamo delineare e della nostra umanità è la sua incompiutezza. È la sua incompiutezza che ci consente, quindi, di poter esplorare attraverso la filosofia, attraverso la letteratura, attraverso la scienza, attraverso l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi, il possibile inedito che è nascosto nell'uomo asconditus, nell'uomo che è nell'essere umano, che è ciascuno di noi e che ci consente oggi di sperare l'esperato. Ecco, un piccolo manifesto del pensiero complesso che, derivato dalla lezione della filosofia della complessità generata prima dalle scienze della natura, oggi noi cerchiamo di elaborare, per leggere, la condizione inedita umana nel nostro tempo, che mi piace definire proprio il tempo della complessità, il tempo della complessità in cui tutto è connesso. Grazie Mauro, grazie anche per aver tenuto i tempi, perfetto. Benissimo. Allora io passerei direttamente la parola a Francesco. Francesco, a te. Prego. Sì, mi sentite? Benissimo, Francesco. Benissimo, bene, grazie. Grazie innanzitutto di nuovo per l'invito al Complexity Institute, grazie a Marinella, a Dario, grazie per l'accoglienza in questa vostra bella e importante comunità e saluto anche tutti gli ascoltatori collegati. Mi fa piacere ritrovarmi poi per la prima volta a parlare insieme con Mauro del nostro libro, uscito da poche settimane, e farò eco un po' alle cose che ha già detto Mauro. Cominciando magari a declinare sul personale le motivazioni che prima Mauro ha illustrato, nel senso che sì, i libri hanno sempre come destinatario un lettore universale, però chi lo scrive a volte ha in mente un destinatario particolare. Io ce l'ho avuto, nel mio caso erano i ragazzi del mio liceo, i ragazzi con i quali mi stavo congedando dopo tre anni, e insomma anche i loro coetanei, insomma i figli della complessità, coloro che hanno imparato, loro malgrado ad abitare la complessità con la pandemia, con la didattica a distanza, che si trovano catapultati in questo tempo di policrisi, in questo tempo agonico, incerto, che sembra privarli di un futuro, della possibilità di dare senso al futuro, quasi fossero prigionieri della terribile predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri, un po' come accadeva nella tragedia greca. Ora c'è un bel passo in vita attiva di Anna Arendt, dove a un certo punto Arendt dice che rimedio all'imprevedibilità, alla caotica incertezza del futuro, è la facoltà di fare e mantenere le promesse. Quindi ecco, io congedarmi da questi ragazzi, cosa potevo fare per loro? Promettere e mantenere la promessa di scrivere un libro che rianimasse le energie per anticipare, immaginare un futuro possibile, auspicabile, che suscitasse un immaginario diverso dall'immaginario catastrofico corrente. E infatti la tesi principale del libro, credo che Mauro condivide questo, è l'idea che se avremo un futuro, questo futuro sarà un futuro planetario. Forse questa è l'unica piccola certezza che diamo nel mare dell'incertezza. E per questo il libro vuole essere un libro manifesto che si rivolge proprio a tutti quelli, a tutti coloro che immaginano, sperano, lottano per abitare la città planetaria del futuro e lottano, guardano all'uomo planetario del futuro, che, come diceva Balducci, figura straordinaria che io ho scoperto grazie a Mauro, sarà un uomo di pace o non sarà. Ed è un libro di filosofia. È un libro di filosofia perché la filosofia moderna, tra i suoi compiti, si è nata anche a un certo punto quello di interrogarsi sull'attualità, sul presente. Questo l'ha fatto da Kant in Poli, quando Kant appunto si chiedeva che cos'è l'illuminismo. E noi in fondo cerchiamo in questo libro di dare profondità all'attualità, uso questa espressione di Paul Valerino. E da quale tempo partiamo? Sì, partiamo appunto dal nostro tempo guardandolo come tempo della complessità. Insomma, questa è la lezione fondamentale imprescindibile di Mauro, da cui partono tutti i nostri libri, compreso questo. Cioè un tempo che è il frutto di cinque secoli di modernità e di globalizzazione o planetarizzazione della civiltà umana e che oggi per la prima volta ha al suo interno la minaccia dell'anniettamento dell'umanità, almeno da Hiroshima, ma anche per l'ingresso nell'antropocene. Ed è un tempo, come diceva Mauro, che porta il segno dell'ambivalenza. Perché in effetti lo sviluppo estremo della tecnica può consentire oggi sia la genesi di un'umanità planetaria, sia la sua distruzione apocalittica. Quindi sia un progresso dell'umanità, sia una sua grande, terribile regressione. E la contraddittorietà del presente, insomma, vediamo un po', come vediamo da un lato riesplodono guerre, fanatismo, religioso, razzismo, dall'altro però in Iran ci sono ragazzi e ragazze che rivendicano libertà. Ecco, questa contraddittorietà ci dimostra che questi due movimenti convivono nel processo attuale di mondializzazione. Sono due, direi, compossibili con una parola che piaceva a Leibniz. Ecco, abbiamo perduto, sì, abbiamo perduto il futuro basato sull'evoluzione lineare, sulla fede ideologica nell'avvento di una società di più ore, su divenire riprogrammato, insomma, è diventato anche meno credibile e meno attendibile il futuro che è prefigurato solo dai sistemi di calcolo statistico, probabilistico, che cercano di renderlo prevedibile già nel presente. Ecco, la diminuzione di queste certezze sul futuro non deve essere accolta, però, con pessimismo. Questo è l'altro messaggio che vogliamo dare. è come se misconoscere fosse un presagio del peggio. Oh, questo c'è sotto traccia in coloro o nei teorici che vedono, anche negli esperti, che vedono un sicuro collasso della nostra civiltà termoindustriale. No, il tempo della complessità, ecco, comporta sicuramente il riconoscimento dell'incompletezza delle nostre conoscenze e anche quelle previsionali. Per questo noi ci chiede di saper vivere nell'incertezza, di essere pronti all'imprevisto, come ha dimostrato la pandemia. Allora cosa facciamo? Viviamo giorno per giorno? Rinunciamo a prospettare un futuro? No, questa semmai era l'idea postmodernista. Cioè, il postmodernismo ci diceva in fondo va bene, ormai non si produrrà più niente di nuovo sostanzialmente nella storia umana. no, no, si tratta di rigenerare il meglio del passato moderno intanto, no? In base a un nuovo paradigma di pensiero, quel passato appunto nel quale ci sono le idee di libertà, di autonomia, di emancipazione che ereditiamo dall'illuminismo e di proiettarsi in un futuro non più garantito, va bene, sì, non più promesso, ma voluto. Il futuro voluto è il futuro avventura che prende il posto del futuro come promessa o del futuro come minaccia e quindi prende il posto di questa pseudo alternativa da cui dobbiamo uscire. Ecco, il futuro verrà. C'è un futuro, noi diciamo questo nel libro, non è ancora completamente figurabile, non è ancora completamente determinato, probabilmente non lo sarà mai, ma per questo c'è ancora uno spazio di manovra, uno spazio, come dire, per la proiezione, per il coraggio, per il desiderio, per la responsabilità, la responsabilità di tracciare noi, già, una linea, una linea tra ciò che è progressivo e ciò che è regressivo, per mettere a frutto i progressi che volta per volta vogliamo compiere, consapevoli, ecco, la cultura e la complessità, consapevoli della aleatorietà, dell'ambiguità, degli effetti collaterali che potrebbero accompagnarli. Abbandonare, quindi, la credenza nel progresso come una necessità storica non significa abbandonare il lavoro per il progresso come compito. Questo è l'altro messaggio che noi vogliamo dare. Quindi, se dobbiamo ripartire da cosa? Dobbiamo ripartire da, diciamo, da una ragione, la ragione, questo perno, insomma, della modernità, che non sia però soltanto strumentale o ridotta ad essere ragione strumentale, ma ragione che torna a ragionare, no? Se mi consiglio il gioco di parole sui fini, sui valori, no? Weber la chiamava, ver trazionalitet. Allora, dobbiamo ripartire dai valori che segnano l'inizio della modernità. Libertà, eguaglianza, fraternità. Ed è proprio il terzo che costituisce, può costituire una speranza intatta di progresso. Perché? Insomma, noi abbiamo imparato a essere più scettici ormai sulle proposte o i progetti che ci presentano libertà ed eguaglianza come perfettamente compatibili. Certo, sono irrinunciabili per noi e resteranno irrinunciabili i libertà ed eguaglianza, ma abbiamo visto quando questi progetti che ci presentavano come realizzabili e armonizzabili di libertà ed eguaglianza, quanti esitano anche e abberranti hanno dato nella storia. Invece, ecco, in un mondo che è sempre più interdipendente come il nostro, perché sì, è vero, la globalizzazione vive sempre una sistole di astole oscilla tra espansione e contrazione, ma quello che assistiamo è comunque sempre un aumento dell'interconnessione. Ecco, in questo mondo sempre più interconnesso che condivide problemi globali che richiedono un approccio globale, la solidarietà non può essere limitata a un cerchio ristretto, i regami parentali, gli interessi professionali, le nazioni. No, deve superare ormai tutte le frontiere della nazione, della razza, della religione, diventare un sentimento di responsabilità globale, globale non solo in senso spaziale, anche temporale, nella misura in cui tale responsabilità si estende a coloro che abiteranno dopo di noi, perché quello che facciamo noi oggi avrà conseguenze nel tempo lontano. Quindi, a fuori crisi attuale dimostra che la solidarietà e la collaborazione globale sono la cosa più egoista che possiamo fare per noi oggi, la cosa più egoista e più razionale. Ecco, ricordiamo che quindi il futuro è aperto e ricordiamo che c'è, sappiamo già che c'è qualcosa di inedito in questo futuro. È l'irruzione nella storia umana di una terra che non è passiva, non è più il quieto sfondo delle operazioni umane, ma attiva e riattiva. In verità, diciamo, l'ho sempre stata, ma solo di recente l'impatto umano sul pianeta è considerevolmente aumentato e in brevissimo tempo, come sappiamo. Quindi, sì, c'è un ospite inquietante che bussa alle porte, non è il nichilismo, è l'antropocene. E l'epistemologia della complessità di cui ci ha fatto una bellissima lezione all'inizio, Mauro, già 40 anni fa, anche già 40 anni fa, cambiando un po' la prospettiva rozzamente antropocentrico, sociocentrica, tratteggiava una storia comune della natura e dell'uomo, ci rende più coscienti di questa cisura. Ma, attenzione, non è, non si tratta banalmente o retoricamente di difesa dell'ambiente, ci attende un compito più ambizioso, quale? Umanizzare la modernità. Cioè, oggi, nel contesto di risorse limitate, a fronte dell'incremento demografico e dell'impronta umana rilevante sul pianeta, ci dobbiamo chiedere come reinventiamo il significato e i fondamenti materiali della libertà, dell'uguaglianza, della dignità, del lavoro, della qualità della vita, del benessere. Che senso nuovo diamo all'idea di progresso sociale? Non dobbiamo forse farlo a partire da una nozione complessa, appunto, di sostenibilità e non più dal sogno di abbondanza, quel sogno di abbondanza senza limiti che è appartenuto tanto al capitalismo quanto alle ideologie anticapitalistiche. Ecco, non dovremmo forse farlo a partire anche da un nuovo partenariato con la terra e dalle mediazioni tecniche nuove che richiede questo partenariato e non sarà forse proprio qui, no? In questo binario che noi, insomma, daremo un senso nuovo alla parola progresso scientifico. Ecco, quindi, la prospettiva dell'umanesimo planetario è la via per reinventare la modernità. Su questo è giusto una battuta. C'è una bella definizione di modernità un po' convenzionata che è di ma fulgorante di Charles Baudelaire. Baudelaire a un certo punto scrive la modernità non consiste nel gas o nel vapore o nei tavolini parlanti, consiste nella dimenticanza del peccato originale. Ecco, in questa battuta Baudelaire praticamente condensa il senso della modernità che abbiamo alle spalle e che oggi è in crisi. C'è la modernità che dimentica in latino la natura vulnerata, la condizione di debolezza radicale da cui l'uomo non potrà trarsi da sé. Quella è stata la modernità, la modernità che puntava alla salvezza terrena, che intraprendeva l'avventura prometeica prima con la globalizzazione nautica del Cinquecento, poi l'industrializzazione, poi l'unificazione tecnico-economica del pianeta. Ma ecco, oggi questa modernità, la modernità di Prometeo, insomma, è approdata nell'imbuto di una crisi multipla, complessa, come diceva Mauro, e ci fa ritrovare in una condizione strutturale di vulnerabilità, di fragilità, che non possiamo dimenticare. E non è soltanto la vulnerabilità come in senso ontologico, questa parola in filosofia, cioè non è la finitezza, il fatto che siamo fatti di carne, ci possiamo ammalare, eccetera. Non è solo questa vulnerabilità che pure c'è, e la pandemia ce l'ha ricordato proprio nel mezzo dei nostri sogni transumanisti, virtuali. No, si tratta anche della vulnerabilità delle nostre istituzioni sociali, dei nostri apparati tecnici, la vulnerabilità che può essere prodotta dalle stesse istituzioni e della vulnerabilità della biosfera, dei limiti puntari. Ecco, però questo senso della vulnerabilità ci dà una speranza di progresso per sì il meglio, perché il senso della vulnerabilità può farci accedere a una coscienza più acuta del nostro radicamento terrestre, delle connessioni, delle relazioni. Ecco, questa cultura dobbiamo però arricchire la cultura diciamo moderna, illuminista, quella dell'emancipazione individuale e dell'autonomia. Vado alla conclusione dicendo che questa sfida che ci richiede la complessità, la sfida di vivere nell'incertezza, noi la vinceremo, la vinceremo e prenderemo, come dire, concedo da quella ricerca di certezze assolute che tante aberrazioni, tanta barbarie ha prodotto e ancora singhiosso produce nella storia umana se sapremmo vedere nella complessità direi il nostro specchio. La complessità è anche questa che noi stiamo avendo adesso è sconcertante. Noi siamo sconcertanti, anzi direi che noi siamo impensabili in un certo senso. Pascal, noi lo citiamo con Mauro all'inizio del libro, profeta della complessità, no? E lo richiamiamo perché anche come rappresentante di quel noccio, direi, resiliente di modernità ragionevole, anche un po' scettica, che sopravviveva nel cuore indurito del razionalismo secentesco. Cosa scrive in uno dei suoi bellissimi pensieri? Sono quasi tutti belli. Qui in questo dice non so che cosa sia il mondo né che cosa sia io stesso. Sono in un'ignoranza spaventosa di tutto. Non so che cosa sia nel mio corpo, i miei sensi, la mia anima. È questa stessa parte di me che pensa a quel che dico, che merita sopra di tutto e sopra se stessa e non conosce se meglio del resto. E però, però, io direi che pur essendo noi stessi complessi, ecco, ai limiti della incompensabilità è proprio il perseverare nel gesto radicale di conoscere se stessi, come diceva Bertale, no? Proprio dell'interrogarsi sulla propria incompiutezza anche se non giungeremo mai a una formula o a un strato definitivo che potremo tenere a distanza la logica dell'odio. guardando a queste ore tragiche della nostra storia io direi che è questa incerta ma fluida e multipla identità la nostra grande opportunità però a condizione che siamo pronti a difenderla di fronte alle certezze della pulsione di morte. Grazie. Grazie, grazie Francesco. io proporrei una cosa ai narratori poiché ho uno sbruzzo di domande che non finiscono mai e continuano ad arrivare io ne potrò scegliere solo alcune allora io proporrei di saltare la domanda incrociata in questo caso e di procedere subito alle domande in modo che ci possiamo dedicare una ventina di minuti alle risposte e tanto non credo che ci siano problemi perché la domanda incrociata ve la potete fare è la prima volta che vi incontrate per parlare del prossimo libro quindi non c'è problema allora io partirei subito da un tema che è stato un po' al centro anche dell'intervento di Francesco che è quello del progresso e mi regherei e quindi magari mi soffermerei un po' di più su questo concetto perché c'è una domanda proprio iniziale di Antonella che dice potremmo dire che dovremmo interrogarci su cosa significhi realmente il progresso e che tipo di progresso noi vogliamo che il futuro porti reinterpretandolo e ricreandolo come lo desideriamo e chiedo a Mauro un suo pensiero su come dovremmo o potremmo reinterpretare il concetto di progresso Mauro devi aprire il microfono non ti sentiamo ok grazie per questa per questa domanda che è la domanda che sta nel cuore della nostra riflessione come già avete potuto sentire mi limito proprio in due o tre minuti ad alcune osservazioni innanzitutto dobbiamo riconoscere la fine della possibilità euristica dell'idea di progresso così come è stata e si è affermata nel corso degli ultimi secoli nello stesso tempo dobbiamo ricordare che l'idea di progresso l'esperienza del progresso una volota stessa di progresso è una vera e propria invenzione della modernità europea e questo ci riporta alla natura alla natura storica contestuale sociale dell'idea a cui noi ci riferiamo insomma un'idea di progresso si delinea nella storia della nostra Europa e del nostro occidente soltanto a partire dal 5600 l'idea che nel futuro ci potesse essere o ci possa essere qualcosa di nuovo e per di più di migliore virgolette fra virgolette rispetto al passato era letteralmente inconcepita e inconcepibile nei tempi presenti nei tempi nei tempi passati se un cambiamento poteva essere immaginato o immaginabile per il futuro prossimo o remoto questo sarebbe andato nella direzione di un ritorno al passato all'età dell'oro che in tutte le mitopoiesi in tutte le mitopoiesi di civiltà anche separate fra di loro prima dell'incontro colombiano troviamo troviamo come organizzatrice della visione della storia della storia umana quindi una cosa importante da sottolineare è proprio il carattere inedito nella storia umana dell'idea di progresso che emerge come l'idea cruciale nella sua ambivalenza anche questo alle origini della modernità europea e poi si definisce e si irrigidisce in un modo si definisce come una legge della storia si definisce come una legge meccanica automatica del divenire umano questo dal punto di vista della storia naturale così come dal punto di vista della storia sociale e della storia politica ci sono delle come dire degli enunciati così cristallini così chiari di ciò che poi sarebbe diventato senso comune introiettato da tutti noi soprattutto a partire dal settecento che noi riportiamo nel nostro piccolo libro e peraltro con lo scopo che è stato davvero uno scopo nostro condiviso ma enunciato bene da Francesco di adempiere anche ad un compito educativo rilettivo sono Siri come ti posso aiutare di Siri che mi chiede come mi puoi aiutare forse mi vede in difficoltà è questo ma sul piano morale questa idea si è rivelata falsa ma anche sul piano economico politico sociale spesso un progresso e qui mettiamolo fra virgolette si è rovesciato in un regresso il progresso scientifico e tecnico non si è tradotto automaticamente in un progresso come lo vogliamo chiamare per ora umano umanitario come pensava l'illuminismo e tuttavia e tuttavia l'idea di progresso noi sosteniamo non deve essere abbandonata perché dobbiamo affrontare la barbarie del nostro tempo il nostro il nostro tempo è un tempo di progressi ma è un tempo di rinnovata barbarie antica la guerra la guerra così cruenta che pensavamo di non più vedere la guerra corpo a corpo la guerra fatta da tagliatori di teste da sgozzamenti la guerra fatta di infanticidi non più la guerra delle bombe intelligenti e nello stesso tempo abbiamo il generarsi inedito di nuove forme di barbarie dovute al come potremmo dire al lavorare carsico dell'evoluzione tecnologica così così rapida l'anomia e l'anonimato ingenerato nelle relazioni umane dalle nuove dalle nuove tecnologie è una forma glaciale gelita di nuove barbarie che trasforma i processi di individuazione dell'identità umana che sono senz'altro anche alla base della fiorittura dei diritti umani in individualismo in individualismo esasperato in solitudine in difficoltà di comunicazione e quindi dobbiamo affrontare anche la barbarie che è prodotta dal progresso della civiltà moderna ma ciò che dobbiamo abbandonare è l'idea di un progresso garantito automatico meccanico inevitabile era la promessa anche delle ideologie politiche che in qualche modo si sono infrante contro la loro storia stessa alla fine del novecento ma che in qualche modo non solo con la teorizzazione con l'esperienza del sentimento di una fine della storia tendono ancora a prevalere ciò che dobbiamo conservare è la possibilità di progresso ma quale progresso dobbiamo mettere a tema l'idea di un progresso umano che sia fondato su una conoscenza dell'umano ciò che ha prodotto il progresso tecnico è stata anche una semplificazione dell'umano e ciò che sta accadendo soprattutto attraverso le tecnologie emergenti e convergenti è una sorta di cortocircuito che produce un'evoluzione tecnica e tecnologica dell'intelligenza che diventa modello retroattivo per lo sviluppo dell'intelligenza umana stessa si è persino radicato nel senso comune che l'intelligenza umana è elaborazione di informazioni che provengono dall'esterno nelle facoltà di psicologia si insegnano frammenti di modelli di scienze cognitive per carità strumentalmente utili ma che in qualche modo inducono un immaginario della mente umana inducono delle immagini e dei pensieri sulla mente umana volti ad una semplificazione della mente umana attraverso i progressi della mente umana siamo in una sorta di paradosso di Escher che si autoproduce sotto forma sotto forma di progresso il concetto di progresso va però difeso attraverso una conoscenza che è a nostra disposizione oggi ma che è impedita nella struttura stessa dei sistemi di formazione nelle scuole e nell'università dove l'umano è frammentato nei suoi frammenti ed è impedito ad autogenerarsi un'immagine complessa quella a cui per esempio si riferiva Francesco ed evocata già da Blaise Pascal all'inizio l'umano come un garbuglio di una molteplicità irriducibile di dimensioni e che ha bisogno beh Calvino racconta nelle lezioni americane evocava prima Beppe Zollo immagini e idee straordinarie l'idea di progresso è molto ipotecato poi da qualche secolo a questa parte dall'idea di sviluppo ma non è identificabile con l'idea di sviluppo e neanche con l'idea di sviluppo edulcorata dall'aggettivo dall'aggettivo sostenibile questo concetto di sviluppo ha provocato distruzione di solidarietà tradizionali ha provocato sottosviluppo morale ha provocato corruzione ha provocato individualismo egoistico ha provocato la degradazione di altre civiltà e di altri modelli sociali nella loro definizione di società sottosviluppate ecco la problematizzazione di queste idee va di pari passo con lo sviluppo l'evoluzione l'elaborazione di una maggiore consapevolezza e coscienza della complessità incompiuta e quindi in divenire dell'identità dell'identità umana qui ci vorrebbero ci vorrebbero un paio di giorni senza interrompere mai va bene senti una domanda per Francesco a parte che tutto quello che hai detto mi ha fatto pensare a quanto noi veramente continuiamo a sottovalutare il potere io direi il potere dell'intersoggettivo di quello che veramente ci stanno un po' disintegrando va bene ma al di là di questo c'è una domanda di Fabrizio per Francesco che dice alla luce della generale resistenza alla consapevolezza sistemica quale può essere il reale punto di svolta planetario domanda da poco quale può essere il reale punto di svolta planetario per evolvere dall'individualistico attuale quello di cui parlavamo un poco fa ad un senso di comunità sì eh sì sempre una domanda a milioni di dollari ma è tutto è il punto su cui ruotano tutti i nostri i lavori i nostri tre lavori di io e di Mao cioè oggi siamo arrivati a un punto della nostra civilizzazione in cui siamo tutti sulla stessa barca nessuno non si salva da solo e e quindi come dire adesso questo salto dalla dalla dimensione come delle delle degli egoismi nazionali alla gestione sopranazionale dei problemi globali questo salto è oggi una necessità non soltanto etica eh ma anche vitale anche biologica questa 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 coincidenza dovrebbe creare il terreno per il salto antropologico eh che dobbiamo fare però è chiaro che non è non è facile questo salto perché non è facile e qui c'entra la modernità qui c'entra la modernità eh perché è un salto antropologico ma anche 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 psicologico perché dobbiamo uscire fuori eh dal fantasma dell'onipotenza dal fantasma del controllo eh totale e dobbiamo appunto entrare in quello dell'incertezza e comprendere che questo fardello dell'incertezza e della complessità lo possiamo affrontare solo insieme eh solo appunto mettendo insieme eh le nostre forze ma le nostre i nostri punti di vista i nostri modi di interpretare la realtà perché appunto in un mondo complesso eh non c'è nessuno che può ergersi sul piedistrallo e dire io so eh io so come va la storia io so come deve andare la storia io eh io ho la ricetta e così via eh la complessità del mondo eh obbliga a impegnarci tutti nella interpretazione continua e condivisa della realtà e e quindi nella gestione dei problemi globali eh è chiaro che dobbiamo entrare appunto nell'ottica che c'è questa incertezza che richiede uno sforzo lo sforzo congiunto e che richiede quindi la cooperazione no la conflittualità eh questo è difficile arrivare a questo perché siamo ancora permeati dalla modernità appunto eh della modernità eh precedente insomma nella quale dovremmo uscire che come dire una modernità che ci aveva abituato alle certezze ci aveva abituato eh come dire ci aveva abituato anche con la sua escatologia secolarizzato oppure come direbbe Mauro con le sacralizzazioni secondarie cioè il determinismo scientifico la possibilità di prevedere sempre tutto eh oppure le teleologie del progresso quelle che ci assicuravano che comunque un progresso ci sarebbe stato insomma tutto tutto questo mh ci ha ha costruito una forma mentis per cui noi eh pensiamo che alla fine pensiamo che alla fine ci sia sempre un senso nella realtà lì dato che noi possiamo prima o poi penetrare con la nostra intelligenza eh siamo lì con la sensazione che prima o poi realizzeremo eh compiutamente la nostra natura realizzeremo compiutamente eh un nostro progetto di felicità universale eh e tutto questo in effetti ci allontana no? invece dal 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 prendere atto della complessità dell'incertezza che richiede un lavoro cooperativo eh ecco questo eh però ecco noi siamo siamo dentro dentro questa fase eh di passaggio evolutiva e quindi non può essere determinata neanche cioè non può essere determinata neanche da deliberazioni politiche perché si tratta appunto di processi evolutivi che non sono processi intenzionali però che cosa possiamo fare ecco che cosa possiamo fare quello che diciamo in questo libro cioè eh possiamo rigenerare l'idea di progresso considerando il progresso come la possibilità eh di anticipare di anticipare come dire uno scenario per noi sostenibile attraente e credibile e dirigerci dirigerci verso quella quello scenario sapendo che non lo potremo determinare sicuramente solo con la nostra azione anzi sapendo che la nostra azione potrebbe anche avere effetti contrari quindi dovremmo essere strategici nel muoverci in questa direzione eh però questo lo possiamo fare questo questo dobbiamo fare sapendo appunto che siamo dentro la natura siamo dentro la terra e dentro anche un apparato tecnico con il quale stiamo coevolvendo e tutto non può essere frutto della nostra intenzione ma certamente dobbiamo riprendere la capacità di anticipare un futuro perché se non lo facciamo se non lo facciamo eh appunto lo vediamo la politica segue l'emergenza del giorno per giorno e questo non porta da nessuna parte anzi porta a qualche parte porta al al disfattismo porta all'astenzionismo perché dietro l'attenzionismo che è un indice della crisi della democrazia c'è proprio eh il percepire da parte delle persone eh vuol dire vuol dire l'incapacità della politica di aggredire i problemi ma appunto la politica dovrebbe riconoscere eh senza demagogia e senza illusioni tecnocratiche che questi problemi si possono gestire gradualmente eh volta per volta tenendo conto della complessità una cosa che ha fatto Obama diciamo eh discutendo in un in un convegno della questione mediorientale ha detto molto molto saggiamente che se vogliamo incidere su questa questione una questione del conflitto israelo-palestinese vogliamo avere la speranza di poter incidere costruttivamente su questa questione dobbiamo partire da una missione di complessità e allora siamo disposti a considerare anche coesistenti dei punti di vista contraddittori su questa questione quello di una parte sull'altra e così via adesso non riprodurgo però ecco questo approccio più pragmatico politica va bene questo approccio è quello che ci potrà fare permettere di fare dei progressi vorrei fare grazie grazie Francesco vorrevo fare solamente un'ultima domanda a Mauro perché il tempo purtroppo vola velocemente un'ultima domanda Mauro ce ne sarebbero tantissime però scelgo questa perché stacca un po' di argomento e la fa Paolo lavorare insieme in modo nuovo quali i fondamenti secondo te del cambiamento in materia di collaborazione ai giorni nostri quindi praticamente secondo te sul modo di lavorare che impatto dovrebbe avere questo processo di umanizzazione bella bella domanda che va alla radice per dirla in due minuti già la riflessione di Francesco e la domanda precedente e poi vedo Marinella alla sua sensibilità e riflessioni di cui ho fruito e goduto c'è una dimensione sociale c'è una dimensione politica c'è una dimensione di formazione del sé che implica quello che tu Dario dicevi una rigenerazione del sé attraverso l'altro dell'interrelazione dell'intersoggettività e con una certa emozione e commozione mi capita sempre di più in questi ultimi tempi mi si rende presente un dialogo avuto non poco prima della sua troppo prematura morte con il mio caro amico Francisco Francisco Varela stavamo ragionando proprio sul tema che tu mi proponi ora attraverso Paolo se non ricordo male Dario e ricordo questa sua frase che proprio mi trovo qui tra le frasi più preziose e quindi la leggo questo mondo diceva Francisco Francisco Varela uno dei grandi maestri per chi non lo conoscesse del pensiero sistemico complesso questo mondo è la nostra danza insieme non è una mia né una tua proiezione è qualcosa che facciamo insieme e ciò che facciamo cambia il mondo e cambia il mondo in una maniera che sfugge largamente come diceva Francesco anche alla nostra intenzione è un'emergenza il mondo della nostra danza insieme e riconoscere questo è importantissimo perché noi siamo debitori di un senso comune di un'epistemologia impressa nel nostro senso comune secondo la quale noi siamo esterni al mondo che conosciamo siamo esterni al mondo su cui agiamo il mondo preesiste a noi e noi in qualche modo preesistiamo al mondo di cui parliamo su cui agiamo e l'idea cartesiana dell'uomo metra e possessore della natura il padrone e possessore della natura è giustificata da questo dualismo che separe il soggetto dall'oggetto l'io dal tu la società dalla dalla natura e che in qualche modo mette a fondamento dei nostri modi di pensare purtroppo lo posso dire in una battuta che può sembrare adesso filosoficamente astratta ma che ho tematizzato in uno dei miei libri più epistemologici che si intitola La fine dell'onniscienza è l'idea della possibilità di un'onniscienza ahimè magari non raggiungibile a caso dei limiti della nostra mente della nostra natura ma che guida quasi come un ideale normativo l'interpretazione stessa del nostro limite come se il nostro limite fosse semplicemente la distanza che ci separa da un ipotetico punto di vista di azione di pensiero di conoscenza che ci potrebbe consentire il dominio assoluto totale il controllo assoluto totale del mondo e degli esiti delle nostre azioni sul mondo in tutto ciò in tutto ciò ed è ciò che è in crisi potentemente nel mondo che noi abbiamo costruito è ciò che è in crisi è questo è questo è questo ideale continuiamo a pensare che l'incertezza il limite ma usiamo solo la parola incertezza che ho visto che nelle notte nelle domande o nelle riflessioni che sono nella chat è stata evocata da Chiara da Chiara da Chiara Simmoning l'incertezza è è come dire è qualcosa che si che ci separa da un'ipotetica certezza da una nostalgia della certezza da una certezza possibile non ancora raggiunta no l'incertezza è ciò che rende possibile la nostra evoluzione è ciò che rende possibile la nostra fioritura è perché il mondo non è determinato che c'è la possibilità di costruire un mondo migliore che c'è la possibilità di costruire un futuro neanche il Dio evocato dai filosofi o il demone laicamente evocato da Pier Simondo e Laplace neanche il Dio dei filosofi oggi è più pensabile come il Dio o il demone onnisciente il limite è la relazione e la relazione è ciò che rende possibile l'inedito è ciò che rende possibile è ciò che rende possibile il mondo di cui parliamo siamo in una sorta di complesso disegno di Escher che non è un trompe l'oeil come nei geniali dipinti di questo artista del nord d'Europa ma è la realtà nella quale noi siamo inseriti e non possiamo e non dobbiamo più sottovalutare che purtroppo i nostri sistemi educativi e la produzione delle nostre scienze cosiddette umane va in una direzione totalmente diversa va nella direzione come dire del nostro ricondurci all'interno dell'orizzonte epistemologico di un mondo che non c'è più che è il mondo del settecento dell'ottocento e del novecento e che continua a costringerci in un sogno di omniscienza e di onnipotenza in cui per esempio la fine della guerra e la possiamo interpretare in tutti i sensi dalla guerra dei generi fino alla guerra barbarica fra gli nazionalismi del nostro tempo avverrà quando una delle parti vince sull'altra con un'interpretazione della pace sotto il segno e lo schema del dominio dell'umiliazione del possesso dell'altro il lavoro da fare è un lavoro epistemologico è un lavoro psicologico è un lavoro terapeutico per questo anche noi che viviamo nel costruire insieme e vi ringrazio per quello che voi fate potentemente per noi e insieme a noi un'epistemologia inedita della complessità insisto non cadiamo nell'errore di considerarla una teoria più vera delle altre ma come dire una sfida che ci è proposta dalla nostra esistenza dal nostro mondo e che in qualche modo ci può riportare e ci vuole riportare all'interno del mondo delle relazioni all'interno di quella struttura che connette di quell'ecologia della mente che in modo così esteticamente rilevante Gregory Bateson aveva immaginato per noi ormai qualche decennio qualche decennio grazie Mauro vi ringrazio mi dispiace il tempo è terminato un grande dispiacere perché io se fosse per me continuerei veramente a lungo grazie di cuore a entrambi spero che in qualche modo si possa continuare anche questo questo dialogo ci sono state molte domande in parte avete già con le vostre risposte mi ha soddisfatto anche molte delle domande che sono esistenti prima di dare la parola a Enrico per la seconda rubrica vi leggerei effettivamente quello che ha scritto Chiara perché è molto bello come fine erano due domande poste ma io ve lo leggerei e Chiara dice umanizzare la modernità non può forse significare abbandonare la ricerca ossessiva della certezza come fine della filosofia e del pensiero e introdurre la fiducia e questo a me è piaciuto moltissimo al posto della certezza riconoscendo l'incompletezza umana ecco mi piace finire anche con questa frase di Chiara e io allora chiederei a Marinella adesso di mandare la sigla per la seconda rubrica so che Enrico c'è e quindi e poi la parola Enrico Cerni a te Enrico buonasera azione azione parola della modernità motore ciak azione proprio come nel cinema motore quando il regista comunica agli operatori di accendere le telecamere ciak quando un operatore inquadra la tavoletta di legno su cui sono indicati il titolo del film il nome del regista e le indicazioni della scena e poi azione quando gli attori iniziano a registrare la scena quindi motore ossia state pronti e state parati per ciò che accadrà ciak questo è il contesto questa è la situazione nella quale siete immersi e azione ecco da qui in avanti si fa sul serio quanto più i sistemi diventano complessi tanto più si enfatizza la responsabilità dell'azione che possiamo chiamare anche prassi o pragmatica come hanno riferito stasera i nostri due ospiti quanto più il mondo viene analizzato con le lenti della complessità tanto più si impone la responsabilità di prendere decisioni di avviare il cammino di osservare facendo senza attendere il momento in cui tutto sarà analizzato perché quel momento non arriverà mai e allora l'imperativo dell'agire ecologico che ci ha insegnato Edgar Morin l'ecologia dell'azione aperte virgolette sostiene il maestro di tutti noi ci indica che ogni azione sfugge sempre di più alla volontà del suo autore nella misura in cui entra nel gioco delle inter retroazioni dell'ambiente nel quale interviene gli effetti dell'azione continua Morin dipendono non solo dalle intenzioni dell'autore ma anche dalle condizioni proprie dell'ambiente nel quale si compie chiuse le virgolette l'ecologia dell'azione ci dice quindi che gli impatti dell'azione non dipendono dal volere dell'autore e che gli effetti sono nel tempo imprevedibili in un sistema lineare agisco così e ottengo quel risultato previsto in un sistema complesso invece agisco così e non so quale sarà la risposta retroattiva dei componenti del sistema e quindi boh prima agisco e quindi boh non conosco e non posso conoscere i rimbalzi e gli echi nascosti derivanti dalla mia azione Alberto Felice Detoni altro nostro punto di riferimento ci ricorda che nei sistemi non complessi quelli tradizionali funziona lo schema analizzo pianifico e implemento quindi l'azione sta come terzo ed ultimo elemento della triade lo schema di gioco per governare i sistemi complessi è invece agisco apprendo e mi adatto prima agisco quindi poi imparo e poi mi modifico in base alle interretroazioni ricevute ma se non agisco qual è il contrario dell'agire i dizionari ci indicano che contrario di agire è poltrire oziare impigrirsi un tempo passato avremmo fatto riferimento all'accidia uno dei sette peccati capitali chi non agisce è dunque acidioso e dante punisce gli acidiosi nella quarta cornice del purgatorio secondo la regola del contrapasso siccome in vita avevano poltrito ora sono costretti a correre incessantemente senza potersi riposare e secondo i padri della chiesa l'accidia è connessa alla tristizia in quanto difetto di intelligenza e di volontà tristi fummo dicono gli acidiosi immersi nel fango dell'inferno dantesco ed ecco allora per noi uno spunto per vivere meglio nella nostra modernità agire è il contrario dell'essere acidiosi e quindi triste l'agire come ci hanno detto i nostri ospiti questa sera allontana la tristezza spazza la malinconia abbiamo perduto l'amore vediamo il mondo devastato da maligni guerra fondai trascorriamo notti insonni la medicina sta nel metterci in cammino e cioè nel fare nel provare riprovare nello sperimentare nel rimboccarci le maniche in questo modo impareremo qualcosa e ci adatteremo ai nuovi complessi complessi a te Dario grazie Enrico grazie di cuore bellissima conclusione allora io prima di lasciarvi vi ricordo la settimana prossima abbiamo un nuovo incontro saranno nostri ospiti Alberto Robbiati futurologo ed esperto di innovazione che presenterà la sua ultima curatela moltiplicare i futuri e poi sarà con noi il filosofo Massimiliano Pappalardo che presenterà il suo ultimo libro filosofia del lavoro signori cosa dirvi grazie di cuore a tutti grazie di cuore ai nostri relatori grazie grazie a tutti